Stanza doppia matrimoniale con bagno interno. Nella dotazione della camera troverete scrivania, televisione con digitale terrestre, e d'aria condizionata. La stanza a bagno interno. Il bagno a box doccia con idromassaggio. E campanella di emergenza. Le stanze sono state appena ristrutturate, e questa stanza può essere doppia, tripla, quadrupla o singola. Dipende dalla richiesta del cliente. Sì. Sì. Grazie.